Grande successo per il trofeo Sant'Agata 2015 di ciclismo. Ben 120 corridori al via per la manifestazione organizzata in onore della Santa Patrona di Catania dal Comitato Provinciale Libertas di Catania con la collaborazione tecnica della Libertas Ciclisti Catanesi ed il patrocinio del Comune di Catania. La seconda batteria è stata caratterizzata dalla pioggia che ha reso scivolose le strade e che ha causato la sospensione della gara. Nella prima invece dominio degli atleti siracusani con la vittoria di Antonino Figura della Rametta d'Asti Noto che ha battuto il compagno di squadra Giancarlo Lo Giudice. Podio per Fabio Scalora della Zecchino Siracusa mentre quarto posto per Rosario Mina sempre della Rametta d'Asti Noto. Circuito impegnativo per i partecipanti provenienti da tutta la Sicilia. Due chilometri e mezzo con partenza ed arrivo in via Martelli Castaldi nel quartiere di Cibali. Sfortunato il corridore Andrea Pasqualino del team Meca Villa Franca Tirrena in fuga nella seconda batteria, poi come detto sospesa per il maltempo. Nonostante le condizioni climatiche, comunque grande soddisfazione da parte degli organizzatori della Kermess positiva anche in termini di pubblico.